Musica Bella ragazzi qui Fabius e Jay Bentornati dopo un lungo lunghissimo periodo senza video Purtroppo ragazzi ve l'ho già detto nell'ultimo video che non è un periodo molto liscio questo Quindi ma non riesco a fare molti video però vabbè cercherò di farne il più possibile Ma andiamo subito a cercare una partita su Uprising sperando che trovi qualcuno visto che 900 persone sai com'è Allora cambiamoci un po' le serie anche se non le prenderò mai Ovviamente non entra nessuno perché è giusto così è giusto Ok finalmente ho trovato una grandissima lobby NobTube complimenti Ah benissimo qui si sclererà tanto tra Nob e Camper andiamo proprio perfetti Allora qui mettiamoci una Siamo su vertigo innanzitutto Direi di metterci Un Dai mettiamoci l'MSMCA L'MSMC crociera La bandiera è già presa complimenti Siete troppo pro No 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 Madonna mia che stavo facendo Stavo facendo un liscio completo Grandissimo tu Cominciamo già proprio al massimo Gli spawn su vertigo cambiano Cioè gli spawn le bandiere Vengono prese ogni due secondi Come sul ride cambiano velocissime Non so perché c'è questa cosa Tu intanto muori bravissimo Quasi quasi ti fotto anche l'M27 Però no Grande il C4 che non fa neanche una kill Questo qua che mi ha coltella Grande Dai prendiamo C Cazzo perché sono spawnato su cheese Maledizione Tu come fai a essere dietro di me Quanto amo l'Uav Tu dovresti morire Sai com'è Oh mio dio la claim Meno male che l'ho vista Ma non ti vergogni Con l'infiltrazione tattica Beh 6-4 Dai l'importante è restare in positivo Dai Vai macchinina Pensaci tu Non muore questo Eh vabbè No La figata è che qua si può salire Ho preso No 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 Qua ci vuole la N Se avete qualche classe Overpower Insomma Molto forte Da consigliarmi Ditemela Nei commenti Perché comunque Sto cercando una classe Che riesca a darmi Magari in quella partita Impossibile Un supporto Ovviamente Sistemi MP nemici Io sempre Nella squadra Dei coglioni Capito Giusto Giusto Vorrei una classe Per prendere serie Alce Non che non le abbia prese Però Vorrei qualcosa Che Facilmente Si ci arriva Quindi qualcosa Di veramente forte Ho sempre Sto vizio Di ricaricare Maledizione Da qua Non si può andare Ma cosa è sto Lag Io ovviamente Invece che prendere Quello Prendo il vetro Bene così Uff Uno che mi dà Copertura grande Prendiamoci Prendiamoci Dai grande Vai prima tu Vado di qua Ok Cambiato lo spawn Grandissimo Ok Perfetto Abbiamo elicottero Avvisato Spero che mi sentiate bene Anche perché Sto parlando a bassa voce Non vorrei fare Tanto casino in casa Quindi Spero mi sentiate Perché poi Me la cambia La secondaria Ah C'è Antischage Figlio di Ma è buttato Anche il visotto Ok Spero di non fare Una grandissima Cazzata Da andare di qua Vabbè Sì Se morissi Ogni tanto C'è tu ovviamente Sai già Che io sono lì È normale È normale Già finito il visotto 20 secondi Neanche Sono contento Dell'elicottero Che mi sta facendo Un paio di kill Così No 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 Tu non mi prendi Haha Fottuto Guarda Guarda Come si gira No 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 Maledetta Flashbang Eh sì Vabbè Allora sei un fenomeno Grandissimo Cioè Io ho flashbangato Le flashbang Che durano Mezz'ora l'una Beh giusto Cioè sei fortissimo Mamma mia C'è né prima Né dopo Peccato Se avessi messo Qualcosa di più alto Tipo il lodster Magari l'avrei preso Non lo so Oh elevatevi Ah qua Guarda Grandissima Antischelge Serve troppo Tra bouncing bet C4 Tutto il resto Serve troppo C'è ma tu Dov'eri Che sono passato Di là Madonna Ci sono passato Proprio Lì di fianco a te Tu non c'eri Ma stai scherzando Ma muori Ancora No Questa me la rivedo Ma se ci sono passato Io Non c'era nessuno Madonna mia Che palle Aia Oh ste flashbang Del cazzo Madonna Ma mettetevele in culo Le flashbang C4 C4 Esplode poi Sempre così Oh Sempre così Non riesco a fare Un cazzo Di video In cui Non mi incazzo E riesco a fare Una serie tranquilla Guarda qua C'è per serie Intendo Serie di uccisioni Guarda qua Dai Non è possibile Non è possibile Sto facendo 23.9 Ma sto facendo 27.15 Che palle Ma muori Ma è inutile Che vai di qua Coglione L'importante Era restare In positivo Quindi Ce l'ho fatta Perfetto Magari Ne facciamo Una Altra Perché Saranno passati Se il video Vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi al canale Ciao a tutti